456 gli incidenti stradali ogni 24 ore con una media di più di 8 vittime al giorno e 615 feriti. Numeri ancora preoccupanti quelli evidenziati dall'ultimo rapporto dell'Istat insieme a Laci che fa riferimento ai dati raccolti nel 2023 in cui sulle strade italiane sono morte circa 3.000 persone in oltre 166.500 incidenti. Un bollettino di guerra sempre preoccupante ma comunque in miglioramento rispetto all'altro anno, il 2019, scelto anche come riferimento dalla Commissione europea che ha chiesto a tutti i Paesi membri di raggiungere entro il 2030 una riduzione complessiva del 50% del numero delle vittime e dei feriti gravi sulle strade. Il calo complessivo generale è del 4,2% con 56 province su 107 in segno positivo e con 8 di queste che hanno già raggiunto l'obiettivo del dimezzamento. Maglia nera quella di Biella che ha fatto registrare oltre il 200% in più di incidenti rispetto all'anno precedente seguita da Vivo Valencia, Reggio Calabria e Venezia. Le più virtuose Novara, Oristano e Matera.